Dopo la notizia di ieri da parte dell'amministrazione comunale di un'altra guarigione dal virus ad Agropoli che fa scendere a quattro gli attualmente positivi in città, sono stati registrati dei casi sospetti dei quali probabilmente in serata sapremo gli esiti. Uno dei casi è stato annunciato ieri dal sindaco Coppola insieme alla guarigione e si tratta di una donna rientrata da Milano che insieme al coniuge stava effettuando la quarantena obbligatoria per chi rientra in campagna da un'altra regione quando ha cominciato ad accusare sintomi con febbre e assenza del gusto che potrebbero essere legati al covid-19. Da palazzo di città fanno sapere che i cittadini sono in isolamento e che sono stati effettuati i tamponi nella giornata di ieri per i due. L'ultimo sospetto contagio è di stanotte un anziano di Agropoli è arrivato presso il San Luca di Vallo della Lucania in seguito ad una insufficienza respiratoria. I sanitari del presidio vallese seguendo la prassi lo hanno sottoposto al test sierologico che si è rilevato positivo. A tal punto l'uomo è stato ricoverato e posto in isolamento. Si attende il risultato del tampone a cui è stato sottoposto per confermare o smentire il test. Agropoli al momento conta quattro positivi al covid-19 con tre decessi e 22 guerriti. Intanto nella provincia continuano i zero casi registrati. Anche ieri tutti i tamponi analizzati negli ospedali ruggi e dieboli sono risultati negativi.